Mi piace pensare che noi non siamo delle persone finite, ma siamo delle persone in continua evoluzione, in continuo cambiamento. Non è passato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oggi è davvero, davvero un bel giorno. Visto che non te l'hanno fatta ancora e molti ci siamo detti prima che non ti sei ancora stancata di spiegarlo, noi vogliamo sapere cos'è una, chi è una. Un nome così impersonale, freddo e generico, contemporaneamente potrebbe anche essere invece letto come unico, come una sola. Se fosse acqua questa sera pensare l'inverno di Dublino Se fosse dolce la paura sarei cari nei denti Se fosse salato il desiderio di averti qui vicino Sarei Luciano indiano più tutti i mari del sud Se fossimo api sarebbe miele questa stanchezza Se fosse sabbia questa patia sarei il deserto del Marocco Vedevo agli illustratori di tutta Italia, perché abbiamo fatto una chiamata mirata a fumettisti, illustratori provenienti un po' da tutte le regioni dell'Italia Di dare un volto ad una, proprio perché volevo sottolineare questo gioco di molteplici identità Nel senso che alla fine io sono tutta, tutte quelle raffigurate nei miei segni E non sono nessuna di loro Simone Martorano, il dico quarto No, perché noi ci siamo incontrati solo una settimana fa Quindi questo è stato possibile grazie alla loro memoria Perché hanno ascoltato i pezzi e sono molto bravi a memorizzare le paio Io non so come faccio Il mondo è di tutto che è nulla Il mondo peccato E quando mi bordo Le ditte e le intrisure Il tuo mondo Della prevesia Un mondo di immagini Immagini ristante Un mondo di ne soliti Pagini estetici Il tuo be' ridotto e della perfezione e di ottimo e di vita su e sono contraria e a volto e sono di sfavolare e alla libera e alla stessa e alla stessa e sono contraria e a volto e sono di sfavolare e alla stessa e di sfavolare